Buonasera, buonasera gigliati, finalmente una gioia, finalmente una gioia che arriva dalla primavera, praticamente per il terzo anno consecutivo, la Fiorentina primavera a proda alla finale di Coppa Italia, grandi ragazzi, grandi ragazzi che avevano iniziato sbagliando il rigore con il capitano, poi però ci ha creduto, ci ha creduto, Monteanu di forza, di forza, gran gol di Monteanu, veramente cercato, voluto da il buon Monteanu, e poi nel secondo tempo ha continuato a spingere, a spingere, spingere, spingere fortemente, il Genoa molto 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 blando, ha fatto delle azioncine ma non è mai stato pericoloso in avanti, e sicché poi è arrivato il gol di Spalluto e niente, ha continuato comunque la Fiorentina ad attaccare fino alla fine e per il terzo anno consecutivo la Fiorentina, come dicevo, ha proda alla finale di Coppa Italia, dove andrà a giocarsela contro la Lazio, che ha avuto la meglio sul Verona. Insomma, stiamo lavorando bene sul settore giovanile, ma questo è sempre stato, speriamo di levarsi almeno questa soddisfazione quest'anno di tirare su questa benedetta Coppa Italia, bravi ragazzi, bravo Aquilani, che sta attirando su veramente un bel gruppo, sono molto molto contento, il Genoa ha fatto veramente poco per conquistarsi la finale, e infatti ce la siamo conquistata direttamente noi viola! scherzo, il finale sarà Fiorentina-Lazio, e quest'anno cazzo, guardiamo di tirare su quella benedettina Coppa! Bene, io vi saluto ragazzi, forza viola, e al prossimo video, mi raccomando, come sempre, un bel like al video, sostenete la pagina, seguite la pagina e attivate la campanella! Allora, eh, almeno, almeno vi vedrete tutti i miei video che manderò in onda, ma gli italentini chissà se mi stanno seguendo! Va bene, dai, buona serata, forza viola, da Leonardo! Allora! 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 Allora!